È LISCI, ovvero il libero indipendente sindacato confederale italiano, a diffondere una nota alla stampa sottoscritta dal segretario aziendale LISCI Dasti Caltanissetta Carmelo Mario Lipani e dal segretario generale provinciale LISCI Caltanissetta Lorenzo Rosario Petix. Nel documento sono elencate tutta una serie di problematiche aziendali che riguarderebbero un non sereno rapporto che intercorrerebbe tra Dasti di Catania, azienda che è in gestione dell'appalto di igiene ambientale nel comune di Caltanissetta, e i dipendenti dell'azienda stessa. Sempre secondo il documento dell'organizzazione sindacale, i dipendenti sarebbero costretti ad operare in condizioni complesse, facendo poi una dettagliata lista delle problematiche criticitari da risolvere, dalla mancata corrisponzione degli stipendi in tempi previsti, dalla mancata organizzazione del lavoro che servirebbe per svolgere al meglio le attività di servizio, come fino al mancato aumento del parco mezzi e delle unità di lavoratori che, secondo i sindacalisti, sarebbero da potenziare con nuove assunzioni. Abbiamo così contattato la Dasti, che ha prontamente replicato in merito alla questione riportata dall'organizzazione di sindacali lisci, e l'amministratore unico di Dasti, Rossello Pezzino De Geronimo, tramite il proprio ufficio stampa, ha risposto che rileva e precisa che i funzionari che sono delegati alle trattative sindacali hanno piena autonomia decisionale nell'ambito delle direttive e degli indirizzi strategici impartiti dal management societario. E dice inoltre, pertanto contesta perentoriamente le infondate accuse di tergiversare o temporeggiare nei tavoli di trattativa sindacale. Per quanto riguarda le asserite criticità del cantiere di Caltanissetta, contesta che non siano stati corrisposti tempestivamente gli stipendi correnti ai lavoratori addetti alla commessa. In ordine alle altre supposte problematiche, l'amministratore unico osserva, continua ancora la risposta, che non sussistono inadeguatezze o carenze di risorse umane e materiali destinati alla gestione dell'appalto. La società, rendendosi sempre disponibile a discutere con le parti sociali e l'organizzazione del lavoro, ribadisce il principio dell'autonomia decisionale nelle scelte aziendali, poiché le responsabilità gestionali rientra nella sfera decisionale dell'imprenditore. Ed infine conclude, l'amministratore unico ribadisce la piena disponibilità a proseguire le trattative con l'organizzazione sindacale lisci per discutere di ogni eventuale proposta proveniente dalla stessa organizzazione sindacale. Grazie a tutti.